Piantare 50 milioni di alberi in oasi mangia polvere in 5 anni per migliorare la qualità dell'aria in Italia. È il progetto di Coldiretti Federforeste che vede il polo vivaistico pistoiese, il principale in Italia e leader in Europa, pronto a fare la sua parte, dichiara Coldiretti Pistoia. I nostri vivaisti, riprende l'Associazione Agricola, garantiscono qualità, quantità e conoscenze strategiche per favorire sostenibilità ed implementazione di efficaci circuiti di economia circolare. Per Coldiretti, con l'Italia che dispone di appena 32,8 metri quadrati di verde urbano per abitante, è strategico puntare su un grande piano di riqualificazione urbana di parchi e giardini che migliori la qualità dell'aria e della vita della popolazione. La valutazione dell'Associazione Agricola parte dall'analisi dei dati Istat in riferimento all'ultimo rapporto annuale malaria in città 2021 di Lega Ambiente, secondo il quale nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di provincia fuori legge per polveri sottili PM10. A provocare lo smog nelle città continua Coldiretti e l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi con la situazione che peggiora nelle metropoli, dove i metri quadrati di verde urbano per abitante vanno dai 6,3 di Genova ai 16,5 di Roma, dai 18,1 di Milano ai 22,6 di Torino fino ai 22 metri quadrati di Bologna. Ancora troppo poco, considerando che una pianta adulta precisa Coldiretti è capace di catturare dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno. Il ripopolamento arboreo di parchi e giardini per Coldiretti è la chiave di volta ambientale. Da qui la proposta di utilizzare parte delle risorse del Recovery Plan per piantare 50 milioni di alberi nell'arco dei prossimi 5 anni, sostenendo così due settori chiave per l'Italia come il Florovivaismo che conta 27 mila aziende e 200 mila occupati e quello forestale con 5.685 imprese con 7.349 addetti. Grazie! Grazie!